Ben trovati, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi giornata internazionale della donna, un momento che è stato anche oggetto di approfondimento di alcune manifestazioni che si sono svolte nella nostra provincia e anche nel rispetto soprattutto delle misure anti-Covid. Abbiamo chiesto ad alcune siracusane quale sia oggi il senso di questa ricorrenza. Una giornata per ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne, una giornata per riflettere su quello che c'è ancora da fare. La giornata della donna affonda le sue radici all'inizio del Novecento negli Stati Uniti, con una manifestazione del Partito Socialista a favore del suffraggio universale. Da allora, ogni anno, l'8 marzo è dedicato all'universo femminile, una giornata che l'Europa celebra dal 1911 e l'Italia dal 1922. Secondo te nel 2021 è stata raggiunta la parità di genere tra uomo e donna? Secondo me ancora no, ci sono differenze soprattutto a livello del lavoro, ma non solo, anche comunemente tra gli amici si nota alcune battute che possono far infastidire le donne, secondo me. E anche perché c'è tanta ignoranza, quindi la discriminazione ancora c'è. Io faccio l'avvocato e spesso entrando nelle cancellerie mi sento dire ancora signorino o signora. Non tutti hanno la stessa mentalità, cioè al giorno d'oggi ci sono ancora persone che hanno quei pensieri che non vanno bene. Io vedo che ancora ci sono veramente delle differenze, soprattutto perché si pensa che l'uomo sia sempre il più forte o anche nell'ambito del lavoro che noi possiamo essere le più deboli. Oggi è una festa forse un po' diversa rispetto a quelle del passato perché non si potrà cenare con il proprio partner o con la propria partner al ristorante o in pizzeria, ma a casa. Sicuramente, certo, con il Covid è un grosso problema andare, ci sono problemi di assembramento, ci sono problemi, si pranzerà in casa col proprio partner, sicuramente. Quello dei diritti delle donne era un tema discusso già da parecchio negli Stati Uniti. Dalla socialista Corinne Brown ad altre figure di spicco in quel periodo, migliaia le operaie di New York che, all'inizio del XX secolo, protestarono per chiedere l'aumento del salario e maggiori diritti nel lavoro. Tra gli episodi collegati all'istituzione della giornata, anche l'incendio che, nei primi anni del Novecento, distrusse una fabbrica tessile dove persero la vita diverse donne. Nonostante sia passato oltre un secolo dall'istituzione della ricorrenza, ancora in diversi paesi, soprattutto in quelli del Terzo Mondo, le donne non hanno ottenuto i loro diritti. Ancora c'è molto da fare. Nella giornata della donna non poteva mancare il solito stalker, infatti i poliziotti e le volanti sono intervenuti in via Paternò, stiamo parlando del capologo, per la segnalazione di una persona molesta in strada. Giunti sul posto, gli agenti hanno denunciato un uomo di 42 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. L'uomo non si era assegnato alla fine della relazione con una donna di 26 anni e continuava a molestarle e a minacciarla. Nella circostanza l'uomo è stato anche denunciato per porto di oggetti, atti ad offendere, in quanto, a seguito della perquisizione del veicolo, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball. Cambiamo argomento, parliamo dell'emergenza Covid. Ieri, come sapete, c'è stata l'inaugurazione del lab per la somministrazione dei vaccini all'ex, o meglio, all'Urban Center, in questo momento ha preso le vesti e ospita il centro per la somministrazione dei vaccini. C'era anche il Presidente della Regione, sentiamo il servizio. 24 postazioni vaccinali che consentono di somministrare 2.000 vaccini al giorno. È stato inaugurato alla presenza del Presidente della Regione siciliana Nello Musumece, dell'assessore alla salute Ruggero Razza, il centro vaccinale hub della provincia di Siracusa, terzo in Sicilia, dopo quelli di Palermo e Catania. È ospitato all'Urban Center di Via Nino Bixio, concesso e incomodato d'uso dall'amministrazione comunale a Retusea, all'Asp di Siracusa. La struttura si aggiunge ai numerosi centri vaccinali istituiti dall'Asp su tutto il territorio provinciale. La Sicilia è abituata alle cose straordinarie, che altrove sarebbero ordinarie, ha detto il Presidente Musumeci. Voglio esprimere la mia amarezza per quegli amministratori e per quei titolari di cariche pubbliche che ritengono di dover anticipare il loro vaccino. Non ci sono scuse, non ci sono giustificazioni, c'è un protocollo e quel protocollo va rispettato. Se la nostra è tra le regioni che più di tutti ha vaccinato superando la quota delle 430.000 la dosi dall'inizio della campagna, ha fermato l'assessore Lazza, è perché c'è uno sforzo che il sistema sanitario della regione ha portato avanti. Oggi su tutte le pagine si parla di impulso alla campagna vaccinale grazie alle sinergie. Questo in Sicilia è realtà almeno da un mese. Nelle prossime settimane sul territorio di Siracusa l'assessore regionale ha detto di contare e di allestire il primo polo vaccinale d'Italia dedicato al comparto industriale all'interno delle Uscai di Priolo. Il risultato di oggi è il frutto di un lavoro sinergico, ha commentato il direttore generale dell'ASPO Salvatore Lucio Ficarra. Assieme a questa struttura sono attivi numerosi altri centri vaccinali che abbiamo istituito negli ospedali, quali strutture protette per gli over 80 che stiamo vaccinando e nei vari comuni della provincia. Dopo la cerimonia il Presidente Musumeci si è recato in visita al centro vaccinale di Sortino. Abbiamo allestito il punto vaccini in quattro giorni con la nostra protezione civile, con la nostra ASPO in collaborazione con il Comune. Bisogna marciare quando c'è un'epidemia in modo particolare. La gente ha preso coscienza della macchina organizzativa della regione che non è impeccabile ma che certamente non deve assolutamente sfigurare rispetto ad altre regioni italiane. Adesso aspettiamo i vaccini. Qui abbiamo 24 postazioni pronte ad accogliere decine di migliaia di persone del Seracusano che vorranno somministrato il prezioso liquido. Guardiamo al senso di responsabilità di tutti, a cominciare dagli operatori dei servizi pubblici, gli amministratori, i rappresentanti delle cariche istituzionali che nella applicazione del protocollo dei vaccini debbono essere testimonianza, debbono essere di esempio. Evitiamo le scorciatoie, evitiamo di superare la fila. Occorre testimoniare coerenza e responsabilità perché nessuno si senta discriminato. Sempre stabile a proposito dell'emergenza sanitaria la situazione in Sicilia per quanto riguarda il coronavirus. In provincia sinacusa però sono in lieve aumento i nuovi positivi. Sempre stabile la situazione in Sicilia per quanto riguarda il coronavirus. Ancora in calo i nuovi positivi che passano da 592 a 576 dato di ieri sera. In discesa pure i ricoveri negli ospedali siciliani con un decremento complessivo di tre unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In aumento invece i nuovi contagi nella provincia di Siracusa. Ieri sera erano 43, ben 14 in più rispetto al giorno prima. Il lieve rialzo oppure i malati in terapia intensiva in tutta la Sicilia sono infatti in cura a 123 persone, due in più rispetto al giorno precedente. Il dato dei guariti è pari a 3.571 persone, 12 sono i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 7.493, quelli rapidi sono stati 14.648. Per quanto riguarda i nuovi positivi provincia per provincia, tra le città metropolitane soltanto il dato di Catania in aumento, mentre diminuisce quello relativo a Palermo e Messina. Ieri sera Enna era covid free. Questo comunque il report dei contagi complessivo nelle province siciliane. 88 ad Agrigento, 52 a Caltanissetta, 121 a Catania, 0 a Enna, 26 a Messina, 174 a Palermo, 57 a Ragusa, 43 a Siracusa, 15 a Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono state 430.256. E non mancano i controlli da parte delle forze dell'ordine. Intanto con un'ordinanza il Presidente della Regione Musumeci ha prorogato i controlli anti-covid per chi arriva in Sicilia. Sono stati prorogati i controlli anti-covid 19 per chi arriva in Sicilia. Lo prevede un'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Nello Musumeci. Restano dunque le verifiche ai principali varchi dell'isola, porti e aeroporti avviate fin dall'estate scorsa, intensificate a dicembre e che la Regione ha deciso di mantenere anche in questi mesi. Nelle ultime settimane inoltre tutti i punti di controllo e drive-in possono contare anche su tamponi di nuova generazione. Chi viene in Sicilia è tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. Questa misura non è prevista per i pendolari che hanno lasciato l'isola per un periodo inferiore a quattro giorni. Sulla piattaforma online è possibile dichiarare di aver effettuato un tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti l'arrivo. Chi non ha avuto la possibilità di sottoporsi all'esame è tenuto a effettuare il tampone in uno dei drive-in allestiti dalle ASP. Chi non intende seguire questa procedura può effettuare l'esame presso un laboratorio autorizzato a proprie spese. Chi non seguirà nessuna delle due indicazioni ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni e di comunicarlo al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all'ASP. Intanto prosegue l'attività degli hub nell'ambito della campagna vaccinale. A quelli già operativi a Palermo e Catania da ieri si è aggiunta anche la struttura di Siracusa. Nelle prossime settimane saranno attivati nuovi hub per le vaccinazioni negli altri capoluoghi che affiancheranno i punti di somministrazione del sistema sanitario regionale. Cambiamo argomento, ha riaperto questa mattina i cancelli il parco della Neapolis, parco archeologico, tante le novità a cominciare dalla nuova biglietteria. Abbiamo intervistato il direttore del parco Carlo Staffile che ci illustra come sta cambiando Pelle e la zona monumentale siracusana. Il parco archeologico della Neapolis da oggi si riapre, dopo il periodo di Covid si attendono ovviamente i visitatori. Nel frattempo però cambia anche volto in meglio perché stiamo notando e si può anche vedere dalle immagini che qualcosa è cambiato. Sì, è da diversi mesi che ormai ci lavoriamo e quindi c'è stata fatta la grande pulizia dei vari monumenti tra cui l'anfiteatro, l'area di Erone che poi avrete modo di vederla nella sua interezza, sia la zona proprio dell'alatomia e poi delle due cose che a noi piacerà poi far vedere ai primi di maggio che sono la grotta del San Nitro, i collegamenti della grotta del San Nitro e la grotta dei Cordari e la tomba, il percorso che porta alla tomba cosiddetta di Archimede. Abbiamo visto anche cambiamenti rispetto anche alla biglietteria, sono in corso i lavori a questa nuova biglietteria? Sì, ci sono in corso questa nuova biglietteria che in ogni caso per i sistemi che avrà avremo più sportelli, avremo la possibilità di avere degli elementi che si inseriscono all'interno di quello che è il parco. Qualcuno ha già postato qualche fotografia rispetto a un locale privato la cui vetrata si affaccia proprio sull'atomia del paradiso, cosa si sente di dire, cosa risponde? La tutela sui singoli fabbricati è sempre della sovrintendenza, per cui se il fabbricato gli è stato permesso di fare delle verande vetrate o non è sempre la sovrintendenza che ha dato i pareri e ritengo che se sono stati fatte erano autorizzati. La fotografia che stiamo vedendo è quella di qualche anno fa quando i souvenir, bancarelle erano proprio all'ingresso del parco della Neapolis, oggi così non è e si viene accolti da una biglietteria che ha una sua dignità anche se ancora deve essere completata. Certo, chiamarlo ingresso con quell'immagine è un eufemismo naturalmente, sarebbe meglio chiamarlo Casba perché questo era all'inizio fino a 12 anni fa, adesso il luogo ha una sua dignità pulito con una biglietteria che veramente si può chiamare biglietteria come in tutti i luoghi, con tutti i parchi archeologici d'Italia, non solo a Siracusa, quindi l'accoglienza per i turisti è molto molto diversa rispetto al passato. Ovviamente per voi cosa cambia, voi guide turistiche? Una risposta sicuramente positiva da parte dei visitatori perché io che opero in quest'area da 27 anni posso dire di non averla mai vista così pulita, così ben curata, anche con un'organizzazione di ogni piccolo particolare, dalla divisa dei custodi all'ultimo c'è cespuglio di erba che magari nascondeva la vista del monumento, quindi dovendo operare con gente che viene per visitare aree archeologiche è evidente che quando trovi un contesto ben curato hai una risposta migliore. Ci spostiamo nel centro storico perché il fuoritarico, la marina per intenderci, è in condizioni degradate in buona parte dell'asfalto, soprattutto delle mattonelle che mancano, dissuosore non funzionanti, panchine non pitturate e queste mattonelle che mancano creano delle buche anche pericolose. Sentiamo tutto in questo servizio. Pur con tutti i limiti del caso, visto che siamo ancora in emergenza sanitaria, comunque ci si dovrà preparare per una nuova stagione estiva e perché non cominciare dalla marina quali sono i problemi che voi sollevate come operatori del settore? Allora la stagione è alle porte, anche se in maniera ridotta, ma pare che dovrebbe ripartire la stagione croceristica a fine marzo con l'arrivo di alcune navi. La cosa che mi preoccupa un po' è lo stato in cui si trova in questo momento la banchina del foritalico. La parte superiore è messa bene perché è stata ristrutturata da poco. La parte inferiore dove transitano i mezzi ed eventuali mezzi che dovrebbero portare o prendere o prelevare i forestieri, i proprietari turisti che arrivano con i panfili, quello lì è in uno stato proprio disastrato. C'è stato proprio qui di recente l'assessore Falcone che in qualche modo si è impegnato a intervenire per porre rimedio a alcune situazioni. Siete soddisfatti? C'è qualcosa che bisogna fare? Io non sono stato informato, non ho visto nessun arrivo di persone, però mi ero sentito dire da parte, si erano impegnati il comune, il sindaco, qualche assessore, l'ingegnere Calandrino a sistemare, quantomeno tamponare quelle zone, quelle parti di banchina che è proprio in uno stato di degrado assoluto. Procedere di banchine c'è ancora la 3 che attende di essere riposta in condizioni di essere fruibile? Sì, la 3, la banchina 3 è l'ultima banchina che dovrebbe essere consegnata e si sta aspettando l'inizio di queste operazioni di più che altro di pulizia perché bisogna semplicemente pulire il fondale da residui che sono rimasti lì durante il corso dell'operazione di restyling. Ultima domanda, stiamo vedendo qui la MCS Poesia che da qualche mese è qui attraccata dal molo o c'è ipotesi che vada via? Si pare che la MCS Poesia dovrebbe andare via a fine marzo per poter liberare la banchina e cominciare, come ripetevo, come ho detto all'inizio, la ripresa di questa stentata attività macroferistica. Però approfitto di questa occasione che voi mi avete dato per poter chiedere all'amministrazione comunale o a chi per essa di poter quantomeno tamponare quello stato di degrado in cui si trova la banchina, la passeggiata del fuori talico, in uno stato veramente di degrado assoluto. Con questo servizio vediamo la prima parte del telegiornale, è stata con noi la seconda parte con la cronaca, c'è anche lo sport e il calcio in particolar modo, ci vediamo tra pochissimo. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center. La trovi a Siracusa. La vita è la somma delle scelte che decidiamo di fare ogni giorno. Scelte a volte facili, altre meno. Uscire di casa o farsi consegnare l'ordine. Pesce fresco o surgelato. Carne o vegetali. vino o birra. Alcune di queste scelte ci porteranno a vivere momenti speciali che ricorderemo per sempre. Questi momenti sono fatti della qualità dei dettagli che li compongono. Che tu sia un privato o un utente professionale. Che tu scelga di cucinare per amore o per passione. Scegli Alta Sfera. Sono qui a presentarvi il nuovo centro di riabilitazione a Siracusa. Si occuperà di fisioterapia, di fisiatria sia in ambito diagnostico che anche dal puntista terapeutico. E ci occuperemo di medicina manuale e di osteopatia con la possibilità di effettuare dei trattamenti specifici sia privati e in futura convenzione appunto per la popolazione di Siracusa e della zona limitrofa. Ci occuperemo del paziente dalla parte gestionale, della parte diagnostica, così come nella fase pre e post chirurgica dell'eventuale successivo intervento. Ci occuperemo anche della parte conservativa, quindi la terapia fisica manuale classica e la terapia fisica strumentale. Toscano non è solo un portale e un'app all'avanguardia per vendere casa. Non è solo un'azienda che da 40 anni garantisce affidabilità e risultati. Toscano è un team di professionisti con una missione, vendere la tua casa. Non affannarti, a vendere casa ci pensa Toscano, il gruppo che fa muovere gli immobili in Italia. Eccoci giunti alla seconda parte del telegiornale. Parliamo di cronaca. I poliziotti hanno arrestato, poliziotti della mobile, un trafficante di esseri umani. Era sbarcato ad Augusta, si era mimetizzato con i migranti, ma è stato riconosciuto dagli stessi migranti come scafista e quindi è stato raggiunto dalla ordinanza di custode cautelare. Si trovava a Crotone. Su delega della procura distrettuale antimafia di Catania, i poliziotti della squadra mobile di Siracusa, coadiuvati dai poliziotti dell'omologa struttura investigativa di Crotone, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un sudanese di 26 anni, Abdallah Ahmed Sabir, e ritenuto responsabile di associazione per delinquere, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani. Lo straniero era giunto in Italia a febbraio, dopo essere stato soccorso in mare insieme con numerosi altri migranti, a bordo di una nave appartenente a una ONG attraccata poi al porto commerciale di Augusta. L'attività investigativa, eseguita all'atto dello sbarco e suffragata anche da asserzioni testimoniali di altri cittadini extracomunitari che hanno raccontato le gravi violenze subite in Libia, nei campi dove vengono tenuti i migranti in attesa di partire per l'Europa, ha consentito di fare luce in ordine all'arruolo che ha ricoperto l'arrestato in seno all'organizzazione criminale capeggiata da trafficanti libici. Dopo i riscontri fotografici e dattiloscopici eseguiti con i moderni mezzi posti a disposizione della polizia scientifica, i poliziotti hanno redatto un'articolata informativa all'autorità giudiziaria che ha emanato il provvedimento e poi eseguito dalla squadra mobile retusea alla cara di isola di Capo Rizzuto, nel territorio di Crotone, dove lo straniero era alloggiato. Il GIP del Tribunale di Crotone ha convalidato il decreto di fermo di indiziato di delitto e ha emesso un'ordinanza di custode cautelare in carcere. Adesso parliamo di medicina per la diagnosi e la cura del cancro alla mammella, c'è la disponibilità di macchinari tecnologici all'avanguardia anche a Siracusa con una consulenza di primordine. Andiamo a trattare un argomento che riguarda specialmente le donne che è il tumore alla mammella. ne andiamo a parlare con il dottore Castiglione, coordinatore clinico breast unit dell'Humanitas di Catania e nonché anche direttore del reparto di senologia sempre a Catania. Ecco dottore, chi meglio di lei ci può parlare di numeri rispetto appunto il tumore alla mammella oggi nelle donne? Negli anni diminuisce, aumenta? Insomma quali sono le percentuali? Purtroppo il cancro alla mammella è il primo tumore che colpisce le donne nel mondo, quindi anche in Italia. Questo trend purtroppo non diminuisce, quindi però diciamo che la percentuale di guarigione in questi anni è sicuramente aumentata. Oggi più dell'80% delle donne possiamo dire guariscono da questa malattia. Certamente molto importante è la prevenzione perché trovare un tumore piccolo e all'inizio sicuramente è molto meglio che non un tumore in fase avanzata. La fascia di età generalmente ancora oggi sono tra i 40 e i 60 anni, però abbiamo notato anche un lieve incremento di casi di donne più giovani, anche più piccole di 40 anni, quindi intorno ai 30 anni. Le percentuali sono un po' più basse certamente, però ci si ammala lo stesso. Per cui la prevenzione va fatta, io direi incominciare sempre dai 20-25 anni a fare le prime visite senologiche con magari associata ad ecografie, magari non tutti gli anni, ma fatte in modo soft, tranquillo e sereno, per poi accentuare questa prevenzione a partire dai 40 anni facendo la mammografia, oltre che l'ecografia e la visita senologica a cadenza annuale. Dottore, un aspetto molto importante per le donne, si sa, è anche il lato estetico. Ecco, oggi che tipo di evoluzione c'è anche sotto quell'aspetto, quindi dal risoluzione del problema medico alla parte estetica e come funziona Questiter? Questiter è un diter molto semplice. Io mi occupo da più di 30 anni di chirurgia oncoplastica della mammella. Cosa significa chirurgia oncoplastica? Significa attuare la chirurgia della mammella associando gesti di chirurgia plastica che ci permettono di risolvere il problema oncologico, quindi togliere il tumore non deturpando l'aspetto fisico della donna. Con lei ha parlato di prevenzione, ha parlato di apparecchiature all'avanguardia per appunto andare a diagnosticare un possibile tumore alla mammella. Lei ogni 15 giorni periodicamente si avvicina nella zona di Siracusa, qui al centro Fisiorem, per insomma dare la sua consulenza. Sì, io lavoro certamente Humanitas, istituto clinico catanese, lì faccio il mio ambulatorio, lavoro lì. Mi hanno chiesto di poter venire a effettuare appunto delle consulenze per le pazienti che da Siracusa viene difficile spostarsi per esempio nel nostro istituto. Considerato le nuove apparecchiature di questo centro che acquistate adesso, compresa anche hanno una disponibilità di una risonanza oltre il mammografo di ultima generazione, quindi mi ha convinto in un certo senso di venire a fare la mia consulenza perché ricordiamoci oggi gli strumenti sono importanti, cioè non basta fare una mammografia con un mammografo qualsiasi, bisogna che ci sia un mammografo digitale, degli ecografi di ultima generazione perché le apparecchiature ci permettono, come dicevo prima, di riconoscere patologie molto piccole e così poterle curare per poter guarire completamente. Un messaggio da mandare alle donne affinché non scappano dalla diagnosi per non affrontare tutto quello che c'è dopo ma approfondire e non aver paura. Io dico sicuramente a tutte le donne di utilizzare i protocolli di screening, cioè avvicinarsi al proprio territorio e andare a fare le mammografie e i controlli senologici di screening anche in assenza di patologia. A maggior ragione chi si sente qualcosa nella mammella vada subito a controllarsi, quindi dal proprio medico o in un centro di senologia per fare velocemente un'eventuale diagnosi perché così facendo, come dicevo prima, si guarisce. Bene, siamo allo sport, parliamo di calcio. Mi ha dato male al Palermo che dopo aver vinto contro il Catania pensavo di aver risolto tutti i problemi, così non è arrivata la Uestabia e ha vinto al Barbera. Sentiamo come. E benvenuti alla 29esima giornata del campionato di Serie C, girone C. Il herza e poi cede il pallone ad Almici. De Rose, cross verso Luperini, colpo di testa, schiaccia ma fuori. Prima occasione per il Palermo con Gregorio, il giropallo della Uestabia che rischia un po', la palla è lì, Luperini, Luperini, rete, Luperini, Palermo in vantaggio, ha segnato Gregorio Luperini, Palermo 1, Uestabia 0. Un suicidio della difesa della Uestabia che ha perso palla a Cardi, ma si gioca, Floriano, zona tiro, Floriano, Floriano, palla sul sinistro, Floriano, palla fuori. Ci ha provato Roberto Floriano con il mancino. Palla di ritorno che non arriva, va da solo, cross in mezzo verso Peretti e Russo in due tempi. Ha schiacciato il pallone verso Marotta, la stoppa di testa, Marotta poi mette giù, chiede l'aiuto di Lia che arriva adesso. Lia, punta Peretti, scarico verso Berardocco, conclusione e ha trovato il pari, la Juve Stabia con Berardocco, Palermo 1, Juve Stabia 1. Gettore di gara, parte Marotta con il destro, conclusione alta. Cross dentro verso Luperini, colpo di testa, palla fuori. Marotta larga il braccio, Luperini protesta, si gioca, Fantacci, 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 suggerimento per Guarracino, Guarracino in aria, cross dentro, Fantacci e la Juve Stabia in vantaggio, ha segnato Fantacci, Palermo 1, Juve Stabia 2. Grave Santana, colpo di testa allontanare di Fantacci, quindi Floriano, Floriano, palla fuori. Al volo ha provato Floriano, non era altro cross, verso Santana, poi Floriano, conclusione, palla fuori. Ci ha provato Floriano con un tiro cross, scacca Barozzi, ancora lui, suggerimento adesso per Marotta, leggermente arretrato, poi Guarracino, a giro, fuori, posizione regolare, Accardi, cross dentro, verso Somma. Occasione per il Palermo, Somma non è riuscito a calciare, scacca Barozzi. La mette in mezzo verso Marotta, Marotta, Palermo 1, Juve Stabia 3, Marotta. Piatone rasoterra vincente di Marotta, il numero 10, non ha avuto alcun problema nel calciare questo rigore in movimento. Piatto destro, lo ha angolato, Rauti, conclusione, palo. Subito attivissimo Rauti, con il palo, Roussola de Palazzi, attenzione a Marotta, 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 in area di rigore, Marotta, conclusione, rete. Poker della Juve Stabia, ancora Marotta, Palermo 1, Juve Stabia 4. La doppietta di Alessandro Marotta, che è andato via dopo l'errore di Palazzi, non l'ha letta bene, probi, corridoio per Lia. Quindi Borrelli, ha un po' di spazio, Borrelli pensa alla conclusione, col destro, palla fuori, non di molto. Cross dentro verso Rauti, Luperini, 4 a 2, Gregorio Luperini, ancora lui, doppietta personale per Luperini, che fa, e viva per Lucca, che viene, gli strappano letteralmente i pantaloni. Questa è clamorosa. Giallo anche per Lucca, che ha protestato, finisce qui. La Juve Stabia batte il Palermo 4 a 2, Ecco, rimaniamo sempre in tema di calcio, per chi è andato invece bene alla Catania, che aveva perso in settimana in casa contro il Palermo, adesso ha vinto 3 a 0 contro il Bisceglie. La cronaca. Dallo stadio, Gustavo Ventura di Bisceglie, il più cordiale buon pomeriggio da Vincenzo Murgolo. Pallone nei piedi dall'Oglio, verticale per Di Piazza, da questi a Russotto, difende il pallone con qualche difficoltà, il pallone ancora per Di Piazza, entra in area di rigore di Piazza, la sterzata su Priola, ancora di Piazza, Spurio, in due tempi, palla gol per il Catania al diciannovesimo. Lottano intanto Silvestri e Macota, regolare l'intervento di Macota, si butta nello spazio Sartore, il pallone è arretrato, per Cittadino che calcia, con Fente, blocca il pallone. Buona azione del... Arriva lo spiovente di Maldonado, il pallone che arriva, la palla in rete, il vantaggio del Catania, al minuto numero 17, il colpo di testa vincente sugli sviluppi del calcio di punizione. Scivola, Altobello, attenzione però al Catania in avanti con Russotto in area, Russotto! Due a zero Catania, esattamente al diciannovesimo, nel corso del secondo tempo, cambia nuovamente il parziale allo stadio Gustavo Ventura, Bisceglie zero, Catania due, e dopo il gol di Silvestri arriva quello di Andrea Russo, controlla la sfera Macota, perde palla sull'attacco di Calapai, prova a nascondere il pallone Calapai, il tocco per Welbeck, va al cross Welbeck, il colpo di testa, la palla in rete! Ma c'è fuori gioco, Golfo, Altobello, Romizzi, pressione regolare da parte di Welbeck, attenzione a Di Piazza, limite dell'area, ancora Di Piazza, entra in area, Di Piazza! 3 a 0 Catania, al ventisettesimo, nel corso del secondo tempo, il terzo gol della formazione etnea, questa volta non ci sono rubi, questa volta il marcatore è Matteo Di Piazza. Temporeggia e chiama in causa Maldonado. Tocco dentro per Rosaglia, zona tiro, calcia a Rosaglia! E chiama Spurio alla grande parata! Il Catania in avanti con Sarau, lotta con Bassano, regolare di intervento del numero 27 del Bisceglie. Allora Gironne, profondo verso Macota, calcia a Macota! Adesso andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore. Buona giornata da Nikos Chiodetto. Martedì una perturbazione sarà attiva sul Mediterraneo centrale con pioggia del centro-sud, possiamo osservare invece come un campo di alta pressione che terrà sempre i suoi massimi a nord della catena alpina abbraccerà le nostre regioni settentrionali favorendo stabilità. Andiamo a dettaglio quindi alla copertura nuvolosa con questa banda di nubi che dalle Baleari e dalla Sardegna si stenderà per gran parte del centro-sud, maggiormente libero invece al nord con sprazzi d'azzurro. Zoom precipitazioni, importante per osservare come le piogge bagneranno, colori blu e viola e il medio-basso adriatico, le centrali tirreni che la Sardegna, attenzione tra Basso Lazio e Campania, fenomeni localmente intensi con precipitazioni anche a sfondo temporalesco. In sintesi la mappa dell'Italia, questa giornata incerta, nuvolosa con delle precipitazioni su parte del centro-sud, dicevo soprattutto centrali tirreniche, Campania, Sardegna. Per il nord invece ampie aperture del cielo e le temperature del pomeriggio tra i 10-14 gradi. Seguite l'evoluzione di questa perturbazione scaricando l'app di Trabi Meteo. Con le previsioni Meteo si chiude questa edizione del Telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito fin qui, un appuntamento alle prossime inizioni, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.